ragazzi oggi adesso arriva Jason con i secchi riempiamo questa vaschetta d'acqua un filtrino ho utilizzato un filtro per non far rintasare la pompa sembra che funziona la grande questo è un flusso molto 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 bello molto gusto è perfetto per lavorare con questo sistema qua preferirei mettere un secchio piuttosto che questo cabassino che è molto piccolo e si riempie subito e quindi con un secchio un po più grande sarebbe meglio questo nuovo sistema sembra che funziona alla grande l'unica cosa è appunto questo questo secchio che deve essere più grande per contenere lo scarto perché altrimenti siamo sempre qui a togliere via con la palettina il materiale che viene scartato poi praticamente lo usiamo per coprire i buchi dove abbiamo messo i sassoni bello non si è bello il filtrino sintasa l'unico problema è questo che non si è bello è andata Grazie a tutti.